buongiorno a tutti anzi buon pomeriggio vi ringrazio se vi siete presi di nuovo del tempo per ascoltare i miei discorsi che dire come sapete io sono appassionato di green per tutta una serie di motivi personali ma perché penso che sia qualcosa di utile del quale parlare vi racconto brevemente quello che mi è successo stamattina ho ricevuto la telefonata da Enrico un imprenditore green di Torino che mi ha contattato per un'eventuale collaborazione e abbiamo parlato un po' della situazione di Torino che per me è una città cara perché a parte il fatto che sono juventino sfegatato è la mia segura città dove è cresciuta mia moglie o amici e parenti lì quindi per me Torino è importante è importante